Ciao leggine, ciao leggine, sono felicissima di fare questo video con voi, con una meditazione guidata per dissolvere i blocchi interni che spesso si hanno e poi guidarvi con un messaggio dell'oracolo dei registri akashici, quindi un lavoro di scioglimento dei blocchi composto in due parti. Una prima parte, appunto questa meditazione guidata bellissima che ora andremo a fare e dopo un consiglio dei maestri per portare avanti il lavoro. La meditazione guidata è stata canalizzata dalle mie bravissime cuori bianche che sono le mie iniziate alla lettura dei registri akashici del comitato animali. Dopo aver preso l'iniziazione dei registri akashici, chi vuole continuare a studiare registri akashici, akasha e tutto ciò che ne concerne con me può partecipare appunto alla masterclass che è una cosa successiva e fanno dei lavori veramente meravigliosi e avanzati. Adesso anche voi avrete la possibilità di beneficiarne, quindi innanzitutto le ringraziamo per questo dono meraviglioso che ci hanno fatto. Quindi io sarò lieta di guidarvi in questa meditazione di sblocco canalizzata dalle ragazze del comitato animali. Chi non è iscritto al canale youtube delle leggi della magia lo faccia subito e se questo video vi piacerà al termine, ovviamente adesso vi dovete rilassare, regalateci un like. Adesso trova un luogo tranquillo, mettiti in una posizione comoda, chiudi gli occhi e rilassati. Inizia ad immaginare che una meravigliosa luce d'amore bianca ti avvolge. Se tu ti inizi a rilassare, ti senti protetta, al sicuro, cullata tra le braccia dell'universo. Inizi a percepire come se ti dissolvessi, diventassi leggera, senza confini, senza limiti, pura energia. E inizi a fluttuare, leggera, nell'etere. Sei libera, senza confini, e davanti a te si distende l'oceano infinito. Intravedi in lontananza una balena che si avvicina a te e ti inizia a dire Io sono la balena, emergo dalle profondità buie e silenziose, per portare alla luce ciò che è nascosto. Come le onde del mare, ritorno, con costanza e pazienza. Io sono molto grossa ai vostri occhi, addirittura posso apparire goffa e impacciata. Ma in realtà ho la capacità di muovermi sinuosamente nell'oceano. In realtà sono libera e felice, e anche tu puoi esserlo. Per questo io sono qui per guidarti, dentro gli avvisti più profondi, celati nel tuo inconscio. Lì dove ogni blocco si insinua e si consolida. È lì che dovrai immergerti, se vorrai eliminarli e purificarli. Per questo ti chiedo di respirare sempre più profondamente. Senti che la tua testa diventa sempre più leggera, mentre l'attenzione si sposta verso il profondo. Immagina di emergere come una balena dagli abissi più profondi del tuo essere, dove tutto è silenzio e oscurità. Ora, dal profondo dei bambini stanno volendo in questo punto, perché non hanno cibo. Ora che questo blocco è sciolto, ora che è disperso, ti senti libera e pulita, o libero e pulito. Lascia andare i pesi che ti porti dietro e che ti bloccano, semplicemente usando la sostanza in cui io vivo, ossia l'acqua. Per questo, per i prossimi dieci giorni, appena sveglia, devi un bicchiere d'acqua e pronuncia la seguente frase. Io, e metti il tuo nome, benedico quest'acqua che scorrendo nel mio corpo mi libera dai seguenti blocchi. Inizia a elencare i blocchi che sai di voler lasciare andare e questo, mattino dopo mattino, ti libererà. Adesso, a poco a poco, ritorna in superficie. Riprendi contatto con il tuo corpo fisico e ascolta il messaggio che giungerà dai maestri per te. Mentre riprendi contatto con il tuo corpo fisico e ti godi le belle sensazioni di liberazione, sta arrivando il messaggio del maestro. Prenditi tutto il tempo che vuoi. Il messaggio è che con questa meditazione guidata per dissolvere i blocchi puoi lavorare anche tutti quei nodi delle vite passate. Le vite passate o sincroniche sono tutte quelle vite che incidono, influiscono sulla vita attuale. Facendoti vivere quelle difficoltà che non sai neanche perché hai. Quelle piccole fobie, quelle paure, quelle cose che dentro di te dici ma da dove mi viene questo? Bene, anziché andare alla ricerca, sappi semplicemente che questa vita che vivi è una vita diversa. È una vita in cui puoi essere felice e in cui tutti i blocchi possono essere sciolti. Grazie all'aiuto della profondità della balena. Grazie all'aiuto della purezza e della purificazione dell'acqua e grazie all'energia guaritrice di Akasha. Adesso, sempre più, ritorna nel qui e ora. A poco a poco inizia a riprendere contatto con il tuo corpo fisico. Percepisci le tue mani, i tuoi piedi e dolcemente nel rispetto dei tuoi tempi, quando vuoi e desideri, apri gli occhi e inizia a percepire come ti senti. Se ti senti più leggera, se ti senti come svuotata, rinata, se ti senti purificata, ok? E goditi ancora un po' questa bella sensazione. Puoi rifare questa meditazione guidata per dissolvere i blocchi tutte le volte che vuoi, che desideri e che ne senti il bisogno. Come ha consigliato la saggezza della balena, per i prossimi dieci giorni fai quel piccolo rituale dell'acqua. Grazie alla lista dei blocchi che vorrai rimuovere, a poco a poco l'acqua mi porterà via. Ti auguro tanta, 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 tantissima luce. Ti invito ad iscriverti al canale e a regalarci un like se questo video ti è piaciuto. Ma soprattutto a scrivere nei commenti come ti senti e se questo tipo di video e di esperienze ti sono piaciute e di rapporti utili. Magari ne facciamo altri. Ciao e grazie. Dourreuna agendio. Ui, sape la visione, ci vediamo un certo punto. No, poi, ora? Grazie a tutti. No, non, non